La Ronzulli dice che non voterà il decreto rape, voi ci sono qualche problema? No, è un po' originale perché lei è il capogruppo, che il capogruppo voti in dissenso del gruppo è un po' un bisticcio, come dire, anche da un punto di vista politico, nel senso che non si è mai visto, ma io sono per la libertà, ognuno faccia quello che crede.